Il sindaco di piazza non si nasconde dietro un dito ed è comunque preoccupato per gli episodi di micro criminalità che da qualche tempo stanno caratterizzando le cronache cittadine. In campagna elettorale ho detto che la città non è più sicura, bastava vedere anche le classifiche del sole 24 ore di Italia oggi. A questo punto stiamo prendendo provvedimenti perché abbiamo purtroppo qualcuno approfittato e ci sono moltissime persone che delinquono. Abbiamo furti dappertutto non solo in città ma anche in provincia per cui dobbiamo intervenire. La soluzione secondo il primo cittadino accanto alle prassi istituzionali è una e una soltanto. Chiamerò il prefetto e continueremo con le nostre ordinanze e continueremo a fare di tutto per il bene dei nostri cittadini e per la sicurezza dei nostri cittadini. In tal senso Di Piazza rivendica il proprio ruolo e il ruolo della giunta comunale indicando neanche troppo implicitamente da quali ambienti provengono le minacce maggiori. In questo momento bisogna far rispettare le leggi. Io sono venuto qua e lo dico per l'ennesima volta per far rispettare le leggi. Quando un cittadino diventa cittadino italiano giura di essere fedele alla Repubblica e alle sue leggi e questo è quello che dobbiamo fare. Semplice. Resta una considerazione fra l'amaro e il caustico. Allora se facciamo i provvedimenti perché facciamo i provvedimenti? Se non facciamo i provvedimenti perché non facciamo i provvedimenti? Allora che si mettono d'accordo raccolte di firme eccetera.